Siamo abbastanza in imbarazzo. Intanto ringraziamo la Fondazione e gli organizzatori per averci dato l'occasione di relazionare su quella che è una ricerca che stiamo conducendo io e il collega Francesco Delizia. Siamo abbastanza in imbarazzo perché non siamo né filosofi né storici né semiologi, siamo due architetti. Una categoria a volte un po' così, che ancora non è una vergogna. Dopo c'è di peggio perché sono uno storico dell'architetti. Siamo alla fine. Allora, cercheremo di stare nei venti minuti, cercheremo quindi di anche, scusateci se ripeteremo alcune cose, ma sono funzionali al nostro ragionamento. La memoria collettiva ha costituito un'importante posta in gioco nella lotta per il potere condotta dalle forze sociali. Impadronirsi della memoria e dell'oblio è una delle massime preoccupazioni delle classi, dei gruppi, degli individui che hanno dominato e dominano le società storiche. A noi è piaciuto iniziare questa nostra breve chiacchierata, proprio partendo da questa frase di Jacques Le Goff, anche perché ci fa un po' capire il destino di questi luoghi. In questa immagine, in questa slide, abbiamo riassunto velocemente cose che in questo auditorio tutti sanno. Quello che a noi interessava è ciò che è accaduto nel 1936, cioè che il Ministero della Guerra e dell'Interno stabiliscono i criteri per la costruzione dei campi di concentramento. Quindi vengono date indicazioni specifiche su come e quali sono i luoghi demandati a svolgere questa funzione. Sono luoghi diversi, diversissimi far di loro. Possono essere appunto, partiamo dai luoghi di confino, da isola, possono essere luoghi costruiti funzionalmente per ospitare persone scomode, come quello di Pisticci, dove appunto vengono mandati i deportati politici che vengono poi usati come mano d'opera. Ferramonti, anche la cui storia credo ormai sia nota a tutti. Ma anche vengono riutilizzati edifici preesistenti, come appunto possono essere ville, caserma, in questo caso Villa La Silva, Bagnaripoli. Oppure il campo di fossoli che tutti noi conosciamo e che domani andrete a visitare. Oppure campi di detenzione che utilizzano, riutilizzano strutture preesistenti. Ecco, a noi interessa fondamentalmente sottolineare una cosa in prima istanza, e cioè che questi luoghi e questi oggetti vengono costruiti sempre con una funzione provvisoria, quindi con materiali poveri, con strutture povere. Noi siamo architetti e ci occupiamo di questo, quindi dobbiamo capire perché tutta questa realtà e come questa realtà è stata realizzata. E quindi cosa rimane di tutto questo? Buonasera. Cosa rimane di tutto questo? Rimangono cose particolarmente modificate anche nei loro assetti tipologici. Abbiamo luoghi che diventano dei memoriali, come la casa dove trascorre il suo confino in Basilicata Carlo Levi. Abbiamo luoghi che si distruggono, che si svuotano. e di cui resta in alcuni casi traccia in una lapida, in un elemento commemorativo. Abbiamo luoghi come Fossoli che sono estremamente particolari, perché pur perdendo la maggiore estensione che era quella del campo vecchio e buona parte delle strutture edilizie del campo nuovo, in realtà quello che resta del campo nuovo, anche in virtù di questo suo riscriversi, ma riscriversi sullo stesso sedime, sulla stessa tipologia, grossomodo, si può dire ben conservato e soprattutto grazie anche, brutto dirlo, però grazie anche alla lunga fase di abbandono, di rinaturalizzazione, comincia a diventare un qualcosa che apre a una serie di chiavi interpretative che poi vedremo tra un attimo diventano il motivo principale di quello che deve essere un progetto di valorizzazione. e abbiamo luoghi di cui resta, scusate la voce, purtroppo in questi giorni mi ha fatto uno scherzo, abbiamo luoghi di cui resta pochissimo, come nel caso di Bolzano, di cui resta sottoposto a tutela tra l'altro il muro di cinta, laddove tutto l'interno è stato lottizzato e quindi anche il muro di cinta è suddiviso in varie particelle. Abbiamo il caso che è stato presentato così bene dalla collega, che credo di aver visto andar via poco fa, della risiera di San Samba, che è un caso sottoposto al progetto di rifunzionalizzazione, quindi una scelta di conservazione degli elementi che ne connotano l'immagine, le parti più forti, le parti più vibranti e intense, però anche con grandi svuotamenti e ristrutturazioni all'interno funzionali a un percorso museale, quindi in questo caso il luogo per la memoria che si costruisce nel luogo della memoria. E' fondamentale quindi, questa mattina il professor Schwarz diceva, ha apprezzato la parola riconoscere, ma se noi andiamo a guardare cosa scrive Cesare Brandi sulla definizione di restauro, dice che il restauro è il momento metodologico del riconoscimento di un'opera. Cioè nel momento stesso in cui si riconosce e quindi gli si dà un valore anche a livello di conoscenza dell'opera stessa, allora scattano tutta quella serie di attenzioni che portano alla sua difesa. Esiste un progetto di ricerca, tutto sommato, da cui noi siamo partiti, e che credo sia noto a tutti, questo progetto di ricerca di Herzog e Giuseppini del 2011. Molto famoso, un sito web dove vengono individuati tutti i campi, le varie tipologie di campi, quindi località di confine, località di internamento, campi di lavoro. Uno clicca su una di queste immagini e gli appare il nome del campo, e poi ancora, e trova quelle che è la sua funzione, chi era ospitato, la sua localizzazione, vi sono documenti, vi è una bibliografia, però noi non sappiamo cosa resta di tutto questo. Questo per me, poiché mi occupo anche di Castelli, era uno splendido castello, ma non sapevo che lì invece erano stati ricoverati per un periodo, erano stati internati per un periodo, deportati ebrei, persone inglesi ed ebrei, che poi sarebbero in parte passati in altre situazioni. Quindi il primo punto per noi è capire la consistenza delle cose, capire cosa effettivamente è rimasto di tutto questo. Noi abbiamo come Stato una legislazione, tutto sommato anche abbastanza interessante, proprio legata alla tutela. Ve ne accenno brevemente, io mi scuso con chi conosce anche meglio di me probabilmente questi aspetti, ma credo che non tutti siate le tecnici addetti ad avere a che fare con le norme che regolano l'attività del Ministero dei Beni Culturali. Perché abbiamo scritto lì su tutte le edifici? Abbiamo scritto lì su tutte le edifici perché in alcuni casi è particolarmente difficile, un po' per una questione di valore intrinseco, di vetustà che manca o che è scarso, un po' perché si tratta spesso di materiali estremamente poveri. Qui c'è una dichiarazione di interesse culturale, però insomma l'hanno letta, vai avanti per favore. Ho detto vetustà un attimo fa, come funziona noi possiamo sottoporre a tutela con decreto, quindi con decreto espresso, un bene che abbia attualmente deve avere almeno 70 anni, fino al 2011 bastavano 50 anni. Perché questa data? Perché quella in cui, come abbiamo sentito già raccontare in questi giorni, proprio in relazione ai nostri oggetti di lavoro, tutto quello che il ricordo rischia di perdersi perché non sono passate il giusto numero di generazioni, bisogna decidere se affidarne le testimonianze alla memoria, alla storia o se lasciarle andare. Poi esistono anche dei provvedimenti speciali però, perché noi non è che abbiamo il vincolo dei 70 anni e tutto quello che è più giovane in nessun modo può essere vincolato. Anzitutto ci sta una forma di tutela che vedremo riguarda le cose che hanno un interesse indipendentemente dalla loro età, perché è legata a un evento traumatico, perché è legata alla testimonianza di un momento storico particolarissimo. Non siamo in Italia, ma nessuno verrebbe in mente che il sedime delle Torri Gemelle dopo l'11 settembre, perché è passato poco tempo, ci ricostruiamo allegramente quello che vogliamo. E poi c'è un altro aspetto da tenere conto, un altro strumento legislativo da tenere conto, che sono leggi particolari, leggi speciali nel 2001. Anche di questo abbiamo sentito parlare, viene varata una norma, entra in vigore una norma che sottopone a tutela il patrimonio della Prima Guerra Mondiale. Ma nel 2001 era già possibile tutelare il patrimonio della Prima Guerra Mondiale. Perché questa norma? Perché viene recipita nel Codice dei Beni Culturali del 2004? Perché si tratta di una norma che sancisce, che accomuna questi beni come appartenenti a un patrimonio. Quindi il discorso è questo. L'importante non è solo la salvaguardia di una somma di cose. Il discorso è ratificare, l'amministrazione statale sostanzialmente ratifica quelli che sono dei contenuti culturali portati dalla cultura all'amministrazione statale, ratificare l'appartenenza a un patrimonio, l'esistenza o la possibilità di un percorso culturale. Ovviamente la cosa migliore sarebbe riuscire ad estendere queste previsioni anche ai beni della Seconda Guerra Mondiale di cui fanno parte le cose di cui parliamo oggi. Però, nonostante le proposte in merito già in fase di discussione, ancora non si è arrivati a questo punto. È comunque vero che lo Stato ha tutelato in diversi momenti, ha tutelato parte di questi luoghi che sono luoghi, abbiamo detto, della vergogna. Il primo vincolo che lo Stato italiano emette è proprio quello legato alla risiva di San Sabba. È interessante perché è un vincolo del 65, l'anno prima del concorso e un funzionario della soprintendenza sarà colui che starà all'interno della commissione giudicatrice del concorso. È interessante tutto questo perché innanzitutto il concorso non vincolerà, cioè il vincolo, non vincolerà tutta l'area, la vedete nella parte di sinistra, tutta l'area del campo, come se la ricordavano noi, ma ne vincolerà solo una parte. E già questo è una limitazione rispetto all'estensione materiale di tutto quello che ciò rappresentava. Ma soprattutto è interessante il modo con cui ci si approccia, si si avvicina a questa realtà, perché l'oggetto stesso della risiera diventa strumento su cui i progettisti chiamati a realizzare un monumento alla resistenza, intanto diciamo che già c'è una prima selezione alla resistenza, incomincia appunto a lavorare per sottrazione, cioè per sottrazione della materia. Sappiamo come andrà a finire, sappiamo che Romano Boico vincerà il concorso, realizzerà un progetto, a mio avviso, affascinante, un progetto affascinante sul quale però alcune osservazioni Export mi viene da fare. La prima è quella, la splendida Sala delle Croci, bellissima, affascinante. Io ho paura del buio, ho sempre avuto paura del buio e dei rumori di notte. Pensate a cosa voleva dire stare in una cella con le persone che ti camminavano sopra e ti portavano fuori, quello che stava nella cella sopra e che veniva portato magari a una fucilazione. Tutto questo è scomparso. Quindi questa selezione di disegni, questa selezione di elementi, tutto sommato toglie, ha tolto a questo capolavoro, perché è un capolavoro che va visto e contestualizzato nel periodo in cui appunto è avvenuto il concorso, ha tolto un elemento fondamentale, cioè quello della esperibilità, cioè di essere un oggetto che domani potrà essere visto, analizzato e studiato da occhi diversi. Un altro decreto, 1999, Ferramonti di Tarsia, è un decreto di vincolo interessante, perché se guardate nell'immagine non c'è quasi più niente, si tutela quasi il nudo luogo. Ed è una cosa, un'intuizione a mio avviso interessante, perché si tutela quello che in realtà è l'assenza. Il campo, l'ex campo di polizia di Bolzano, anche qui potremmo descriverlo, ma taglieremo, è interessante questa immagine. Guardate cosa resta del campo, resta una linea rossa, una sottile linea rossa, cioè resta un muro che comunque viene vincolato. Siamo nel 2003. L'ultimo decreto, 2011, quello del Ministero, sempre dei beni culturali, che tutela l'ex campo di Fossoli. Per fortuna non solo il campo vecchio, ma anche, non solo il campo nuovo, ma anche il campo vecchio, dove sarebbe anche interessante attivare, e ne abbiamo già parlato in fondazione, una serie di indagini di archeologia di superficie, di archeologia d'olocausto, per verificare eventualmente, eventuali tracce di un antico sedime che si è perduto. Ma anche qui, per fortuna, il Ministero ha tutelato il nudo luogo. Però, se si legge bene il campo, se si legge bene il decreto di vincolo, si tutela una fase del campo. Mentre invece abbiamo sentito, cioè, se lo leggete il vincolo, dice, si tutela nelle scatole, ma non si tutela quello che c'è dentro. Ma quello che c'è dentro, noi abbiamo appena sentito, è uno strato, quello di Nomadelfia, un altro strato, che ci fa onore, che è quello dell'accoglienza dei profughi Giuliano Dalmati. E quindi, tutto sommato, l'attività di tutela diventa complessa, perché significa tutelare una stratificazione che cambia. Esiste quindi un'altra forma diversa di tutela. Allora, la definizione di tutela fa riferimento ad alcuni aspetti che ci interessava sottolinearvi. Naturalmente, io non la leggo perché è scritta lì, però, mi sottolineo che la base è un'adeguata attività conoscitiva. consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette sulla base di un'adeguata attività conoscitiva. Il resto lo vedremo dopo. Un'attività conoscitiva che già di fatto esiste e esiste svolta a più livelli. Ora, sappiamo bene, l'abbiamo sentito anche questo più volte, che esiste una grandissima mole di documentazione su questi argomenti, su questi temi, su questi campi. Documentazione che purtroppo è molto dispersa, perché è oggetto di lavori a livello locale prevalentemente, che richiede una connessione, uno sforzo progettuale di network. altro aspetto è che l'obiettivo è garantire la protezione e la conservazione naturalmente di quel che resta. Ma tutto ciò, come ho detto prima, viene ratificato quando c'è una spinta culturale verso questa cosa e non è oggetto soltanto dell'intervento dello Stato. noi ci dimentichiamo infatti che esiste dal 2005 una convenzione 4 sul valore del patrimonio culturale per la società che è la convenzione di Faro che ha come obiettivo quello il diritto riconosce che il diritto all'eredità culturale è inerente al diritto a partecipare alla vita culturale riconoscere una responsabilità individuale e collettiva nei confronti dell'età cioè quindi non è solo lo Stato che si deve far carico ma è il singolo cittadino che tutto sommato rompendo quasi anche una definizione abbastanza classica per chi insegna restauro cioè i monumenti non sono nostri i monumenti potremmo mettere non lo possiamo mettere tra parentesi e forse dire che i monumenti si sono nostri perché abbiamo la responsabilità nei loro confronti e quindi fornisce una chiave addirittura interessantissima che dice riconosce il ruolo delle organizzazioni e di volontariato quindi riconosce anche in realtà come quella adesso qui sviolino scusate non c'è la musichetta perché non hanno un jingle però il ruolo di una fondazione come Fossoli dell'ex campo di Fossoli perché comunque non prendono le associazioni di volontariato il posto dello Stato ma concorrono a far sì che lo Stato eserciti meglio le sue attività di tutela quindi concorrono a far sì che vi sia una maggiore consapevolezza nel cittadino di quello che è il suo patrimonio ma anche di quelle che sono facendo partecipare le persone a campi come nel caso di campi di formazione ovviamente nel caso di Fossoli di formazione tali per cui anche un ragazzo o un bambino riesca a capire che cosa gli è successo uno dei temi che emerge con forza da queste giornate di lavori è quello della responsabilità la responsabilità che abbiamo tutti noi che non possiamo far finta di nulla non possiamo girare la faccia quando vediamo succedere cose che non riteniamo giuste è la stessa identica cosa non è vero che non sono nostri sono nostri però non sono nostri nel senso che non possiamo lasciargli deperire abbiamo il dovere di trasmetterli al futuro di renderli anche intellegibili non si trasmette solo un pezzo di pietra ci sono pezzi di pietra che parlano da soli ma ci sono memorie fragili che purtroppo non possiamo lasciarli così dobbiamo riattivarle e in questo è fondamentale il ruolo la compartecipazione pubblico privato ma anche con gli enti locali con le associazioni e con le fondazioni un caso virtuoso che abbiamo qui è proprio quello con la fondazione Fossoli che inizia con un lavoro con una prima intesa con l'università di Bologna un lavoro approfonditissimo devo dire di messa sistema della documentazione d'archivio e poi di indagine sul campo con le possibilità che offrivano i livelli di sicurezza di avvicinamento a questi edifici e quindi con tutta una serie di analisi che si traducono nello sviluppo di rilievi tipologici delle varie solo che voi notate semplicemente che in questa immagine e questa immagine come altre vi sono veramente quando voi entrate dentro a quelle baracche siete in un luogo siete in un rudere contemporaneo perché i pavimenti i muri esterni sono quelli realizzati in occasione dell'edificio della creazione del campo per la deportazione poi però dentro ci sono le controfodere che sono state fatte da Nuova Delfia e poi se guardate bene ci sono i tagli del muro contro l'umidità che li ha fatti Giuliano Dalmati e poi vi accorgite che c'erano i controsoffitti e anche i controsoffitti li aveva messi Giuliano Dalmati e poi vi accorgite gli stencil ci sono strati su strati e poi c'è un terremoto che ti fa cascare un pezzo di intonaco e ti fa tornare indietro e ti fa vedere che sotto su quel muro c'è una scritta ma tu sei su un pavimento allora dici mamma mia sono tornato nella baracca ma poi guardi a terra e sei su un pavimento invece degli anni 50 e ti guardi fuori e vedi che il paesaggio è cambiato secondo me la bellezza di Fossoli è questa cioè questo di essere un luogo pluristatrificato che racconta a mio avviso e qui vado a chiudere delle vergogne di uno Stato ma anche della sua capacità di accoglienza nel caso dei Giuliano Dalmati di accoglienza nei confronti di profughi grazie ah io c'è un'altra puoi dire un problema no vabbè chiudo perché ci avete dato il tempo e noi siamo grazie a tutti grazie a tutti